Ciao amici e bentornati su Forza Horizon 4 Vorrei finire oggi il tour adrenalinico che abbiamo qui Manca 290 mattoncini per... Beh 290 mattoncini non è che sia poi così poco eh amici Comunque con... D'ora in poi tengo sempre una webcam abbastanza scura Qua non c'è bisogno perché rende un po' meglio Divento un po' più anonimo io Sento solo meglio la mia voce e... Non per via del colore mini Mi fanno la vita del Garmentine a chi importa se la... C'ha ragione Dai 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 molliamo eh Il lavoro degli italiani era un po' di ladri ovviamente Quindi per... Dice tutto Dice tutto quel film lì eh Su come ci vede la gente In giro Per dire Si si può fare si può fare relativamente Forse se la prendo a fuoco Se la prendo a fuoco Dai 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 Dovevo prenderla a fuoco anche questa Questo è il pezzo più brutto Eh se dovevo prenderla più a fuoco anche questa Ma come fa a... Avere un blocco così forte sta mini? Ma che roba E' contento anche delle due stelle Guarda eh Guarda è per un secondo Per un secondo Per dire un secondo sì Che puoi recuperare secondo me Nell'acqua magari no ma poco prima Poco prima secondo me si può recuperare Ok 40.000 eh Beh 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 Continuiamo amici Quattro gare da fare oggi Quattro garette da fare Per finire il tour drenavinico Ah quindi piano piano sta avendo Si sta facendo conoscere questo Lego Valet Vai col ferramino Scusa Scusa Ha detto davvero che scusa il volo Sto andando più lontano Non c'ho il tempo 100 metri o una stella Devo arrivare ai 300 all'ora E' finita E' finita 305 marce A fuoco A fuoco Questa è l'unica rotonda sul gioco Da dove si può prendere dritti eh Vai 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 Attenzione 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 Signore tutto qua Se lo va anche guarda E' andata bene 297 metri Schivando Batman Cos'è che ho schivato 3 stelle Forse 2 invece Perché 300 metri No no 2 3 stelle 3 stelle raggiunte Ottimo Abbiamo una media abbastanza alta Devo dire in questo Piccolo festival Non mi sto lamentando Non è andata Proprio manco Allora 2 gare 2 si 2 gare 40.000 Non è un problema Vai Ancora 2 Un 100 Manca pochissimo Quindi ne manca ancora Quante ne mancano Diamo un'occhiata Mancano ancora 2 Giusto Sì 2 vai 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 E pochi mattoncini per un'altra ala della casa Questo è interessante Quando è che ci darà lo Senna? Velocità For Senna Che belli fare così Bellissimi Ci hanno veramente pensato Con i lego Forza con i lego E' molto interessante Come accoppiamento No Fammi vedere Bellissimo Bellissimo Raggiungere le stazioni Esegui 5 Verità Valorità Spettacolare Verità Di proprio andare a rire Or跑 Come accoppiamento E si a bambini E si a bambini Gira di più La Ferrari Non so se è chiaro Questa va più forte è riuscito a spettacolare senza problemi amici buona tenuta di strada amici di questa macchina qua molto interessante come auto da avere della protezione delle lego e da potenziare con 4x4 e pomparla un pochino una tutta di strada granitica, guardate che roba ho frenato così tanto ferma, era sbagliato questo è da prendere con il fruttolo altro che tra i denti, tra le gambe sbagliato 800 metri ne faccio 12, non 13 si poteva fare tranquillamente ho finito il tempo ma ce l'ho finito il tempo è al limite ragazzi, è al limite al limite, è al limite amici mannaggia non me lo aspettavo, sapete allora cos'è questo sto cavo maledetto cosa mi dà? cosa mi dà? quante dà mi le metterai eh non mi ha dato le metterai c'è anche un diavolo lì? ho una cuntac mi sembra un diavolo con una cuntac dai ultima sono molto curioso di vedere la fine di questo tour affrotta la Lego il giro della vittoria c'è l'intero garage spogliere oddio questo è interessante raggiungere la destinazione che bello che l'ambientazione è stupenda ogni volta che gioco è più bella di notte così poi è uno spettacolo unico si può fare molto più veloce amici lì si esce vabbè vabbè piccola toccatina sul freno drifting un po' esagerato forse yes quanto vuoi fare drift con questa macchina qua ci siamo divertiti ora si fa sul serio dai un pochino dai un pochino almeno voilà 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 perfetto senza problemi l'f40 una tenuta di strada spaventosamente incredibile incredibile adesso ci daranno la mini probabilmente via spacchiamo tutto non è vero è fatto di Lego ora ci danno la mini o la senna secondo me la mini l'ho detto che carina la mini mi piace da morire da morire bellissimo c'è niente da dire 5 chilometri 2 ma io faccio così 4 e 6 mi piacerebbe usare un po' di fuoristrata un po' così ma non proprio così vai 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 a tante marce stamini taglio ho tagliato avete visto amici ma come si esce da qua sono per dritto se lo faccio in in 50 secondi vale 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 veramente interessante eh che vale così senna mclaren senna mclaren senna dai 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 ecco su un carico con questa vorrei tagliarla di brutto ma è una senna non è che è la mini che è fatta per tagliare le ho detto non mi importa cosa ho detto sicuramente più veloce su strada però così è molto più divertente andarci in giro amici usate una senna per tagliare i tratti dai su dai dai su dai 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 vieta l'imperaggio di farlo dai macchina da qualche milione di dollari bella curva perché dover devo tagliare via è una senna no prende nome dal nostro amico che ci segue sempre una volta un po' di più in quanto era più vivo anche il canale battute incredibili oggi il nostro amico Ailton purtroppo l'anna è un aereo quanto mi diverto usarla come un range rover questa macchina qua ha un rumore fantastico devo dire però faccio più in fretta così sì probabilmente perderò questa gara perché ho fatto il pull sicuramente anzi un trattore nel mondo c'era me l'ha dato vabbè 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 ho saltato un po' non è che 3 stelle yes è andata bene abbiamo finito il tour adrenalinico perfetto e avremmo finito anche l'altra della casa non credo sapete 150.000 ragazzi mamma mia mamma mia è finito è finito sì 9 su 9 9 su 9 cos'è sta roba insomma dobbiamo vedere ci proviamo siamo qua siamo qua perché no con 4x4 slitta sta roba eeeh yes 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 non è la macchina adatta non è la macchina adatta amici però non è neanche la sbagliata non è neanche la più sbagliata devo dire non è neanche la più sbagliata eh non è la macchina adatta non è la macchina adatta non è la macchina adatta particolarmente rigido drift yes salve quante cose tutte insieme quante me ne mancano 120 beh 120 è abbastanza amici signori io direi invece che l'appuntamento vi faccio finire qui ci vediamo al prossimo video lo tutti a tabooox grazie a tutti